Un saluto dalla redazione del Tg della mobilità. Lavori di rinnovo dei binari da lunedì prossimo sulla linea della metropolitana e sulla linea tram 8. Per quel che riguarda la linea A, il cantiere durerà circa 18 mesi e si svolgerà nelle ore serali, dalla domenica alla giovedì a partire dalle 21, quando al posto dei treni ci saranno in superficie bus navetta. Il venerdì e il sabato il servizio della metro A invece sarà regolare, le prime partenze dei treni alle 5.30, le ultime a 1.30 di notte. Per quel che riguarda il tram 8 invece è sempre dal 4 aprile, i mesi di cantiere saranno 6 con bus al posto dei tram, da inizio a fine servizio lungo l'intera tratta Casaletto-Piazza Venezia. Gli interventi sulla linea 8 serviranno anche a predisporre l'infrastruttura per la messa sui binari di una flotta di nuovi tram che arriveranno nei prossimi mesi.